Allagamenti, disagi, crolli, il maltempo si conferma all'acerrimo nemico dei comuni vesuviani. Da Castellammare a Portici, passando per Torre Annunziata, Torre del Greco ed Ercolano, nessun comune è stato risparmiato dalle forti piogge di questi giorni. Qui siamo in via Sepolcri a Torre Annunziata, dove, come potete vedere, il manto stradale ha ceduto a causa delle forti piogge. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili urbani, che hanno chiuso la strada al traffico. Ma quello di via Sepolcri è solo uno dei tanti punti dolenti sparsi per la provincia di Napoli. Condizioni difficili anche nei comuni vicini e non solo per disagi stradali. Nella notte la spazzatura non è stata ritirata dagli addetti alla nettezza urbana. Qui siamo al confine tra Ercolano e Torre del Greco, nella zona alta del comune torrese, e come vedete i sacchetti, a causa del folte mattempo e dell'acqua che scendeva dal Vesuvio, sono arrivati anche fino giù alla città. Le istituzioni continuano a tenere gli occhi chiusi e intervenire con risoluzioni momentanee. I disagi talvolta si protraggono per giorni, senza che nessuno presti ascolto. In via Benedetto Cozzolino, strada provinciale che invece unisce tutti i paesi vesuviani, i dissesti vanno avanti da giorni e con le forti piogge della notte la situazione, come potete vedere, è molto peggiorata. Condizioni difficili anche a Castellammare e Portici, dove si registrano allagamenti e strade interrotte a causa di un maltempo che, per l'ennesima volta, riesce a mettere in ginocchio la provincia napoletana.